Il più dell'ambiente la tecnologia non la possiamo sopportare noi, cioè fare disastri non solo appunto all'ambiente ma alla psicologia delle persone, io lo chiamo autismo corale, cioè questa superfetazione, questa onnipresenza della tecnica ha messo dentro le persone cose brutte, cioè il progresso materiale produce miseria spirituale, questo mi pare abbastanza evidente, produce solitudine, produce atomizzazione e quindi non è solo l'ambiente che non può sopportare l'eccesso di tecnologia ma l'ambiente interno, cioè la psicologia delle persone che non sono fatte, le persone sono fatte certo anche per avere dei supporti tecnologici ma le persone hanno bisogno di poesie, di luce, di silenzio, di abbracci e non solo di oggetti appunto di macchine, di telefonini, queste cose che si interviene questo.